Chiusa per una settimana la sala slot di Piazzale Castagnara, lo ha deciso con una ordinanza la responsabile dello sportello attività produttive del comune di Cadoneghe. Il provvedimento è stato deciso dopo tre violazioni da parte dei gestori cinesi dell'ordinanza sui limiti orari per le sale slot situate nel comune. I carabinieri li avevano multati una prima volta in aprile, alle 2 di notte, quando il limite stabilito era quello delle 20. Quindi sono tornati insieme ai vigili urbani altre due volte in luglio e in agosto, trovando il locale aperto al mattino presto e all'ora di pranzo. È scattata così la sanzione accessoria e il provvedimento di chiusura per sette giorni.